Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. È un momento storico. Da oggi, finalmente, il termine vitalizio smetterà di essere sinonimo di privilegio. Un privilegio assegnato in segreto agli albori della Repubblica e a cui nessuno, nessuno, ha mai avuto il coraggio, ma soprattutto la volontà politica di mettere mano. Nessuno, tranne noi del Movimento 5 Stelle. Con la delibera presentata dal Presidente della Camera, Roberto Fico, risparmieremo, pensate, 40 milioni di euro l'anno, 200 durante l'intero arco della legislatura. Risparmieremo dalle ricche prebende percepite per troppo tempo, ma troppo tempo anche da chi non ha mai nemmeno messo piedi in Parlamento, neanche per un giorno. La nostra battaglia, però, non si ferma qui. Non c'è più tempo da perdere. Anche Palazzo Madama dovrà, infatti, dare una corposa sforbiciata agli assegni incassati dagli ex senatori. E dovrà farlo in fretta. Poi sarà la volta delle pensioni d'oro, i cui risparmi saranno usati per aumentare quelle minime. Questo per noi vuol dire cambiamento.